Bella ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi su Fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di Fortnite. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sul supporto al creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. Ah che bella, casa cana è tutta mia. Qua è chi me la tocca? Ah, casa moderna è tutta mia. Chissà se ci hanno messo un'arma. Pirapiri, pirapiri, pirapiri. Matto uno. Bello questo italiano, di G-Man. Io sono in mezzo alla mappa che non faccio il cazzo. Eh, se ci ricordate anche di... Matto un altro, lo so, lo so. Tutto l'idea. Ah. 38. Vai, ok. Piripiri, 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 piripiri. Hai preso due il poppa? Da me? Morto, 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 morto. E ne hai fatti già, giag? Ok. Morto uno da me. Dove ti pinggo è pieno di centra. Due team, uno noccato. Per il bacco che sto correndo. Perché corri, Mirko? Non mi fa le kill. No, no, ma corro per assistere... Morto un altro? Morto un altro? Morto l'altro. Eh, troppo tardi, Mirko. Ho notato... Scusami, non volevo, giuro. Tranquilla, ma io non voglio fare le kill. Già te l'ho detto. Tipo, ora il tattico ha fatto un danno... Che non stava né in cielo né in terra, ti giuro. Faccio una mitaglietta nuova, viola, se vuoi. No, ho smesso. Vieni, ristiamo, dai. Andiamo. Vieni, come Mirko. Arrivo. Tanto arriverò lì e saranno tutti morti. o tu li ucciderai prima di me. No, l'anni prima o tu di me. Arrivo, verde! Trenta, blu. Uno l'hanno knockato, eh. Non io, però. Guardi, va bene. Dai, eccomi. Martina, mi ha tankato anche sua madre, questo. Io non c'è stato uno. Arriva da te. Sì, sì, tranquillo. È white, giusto? Sì, è white. Eh, lo so che è white. Lo so, lo so. Anche me lo sei white. Io sono white. Vado a duro che sia. Io ho gli scioglini. Aspetta. Vende, purtroppo no. Io sì. Più atti mazze, non ne ho mai. Ma che è? Più farm e più non ne ho. Ti regalo anche questa che ti piace. Vai. Prego, eh, prego. Adesso sì. Fatti pal, no? 24, 24 di nuovo. 48 in acchessa. Ho un lancio, vado, vieni con me. Beh, no, io ho fatto cazzo. Io ho fatto malissimo. Eccolo. Tu lo li più avanti, io ho fatto male. Ma proprio, male, male, male. Proprio ha preso una bot. Male. È qui dentro. Male. Male da morire. Guarda uno. Bianco, tutto per te. Marti, quello ha deciso da far più de' puttana. Eh, non hai capito. È nascosto questo? Lo vado a prendere lì dietro. Penso sugli alberi. No, 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 è un po' sotto, sotto dietro. Ma ha trovato la palla? No. Dove è andato? Sì. Arriva, 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 arriva. Vieno, 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 vieno. Sono qua da te, sono qua da te. Uno è one hit, proprio, letteralmente one hit. Vapuno. Ricarico. È qui sotto. Lo sta alessando? Fondo. Vai, sta medica per te, sta tutto. Martina, tu l'hai mai fatta la prova con quella skin, vieni qua. Prego. Scusami, facciamo dopo che c'è gente. E infatti sentito anch'io qualcuno. Ah, è quello di prima. Ho lasciato l'altro che. Fatti il chug. Però ogni volta mi rompo il culo, Martina. Ma perché? Ho visto tutti questi tanti nocchi. È la skin, Mirko, guarda che barba che c'hai. Guarda che barba. Ho capito, ma mi rompono sempre il culo. Martina, io gli sparo che faccio 30, 30 e tutti colpiti in HS. Mi spotto il cazzo. C'hai ragione pure te. Dicevo, fai quella skin, cioè fai quella emoticon. Aspetta, vai. Eh, ma non funziona qui. Vedi? Che è successo? È il rumore della porta. Ah! Ma l'ho capita dopo! Allora che bella pallina. Oh! Come sono simpatico, lo capisci? Perché faccio io per con ca' i materiali. Ma non ho fatto il tributo. Ah, è quello di prima. Ho lasciato con it. Ma non è vero, 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 non è vero. Ma è giusto, martina la mia, l'ho visto la mia, martina, martina, martina. Mi hanno fatto arrabbiare, mi hanno fatto. Dove saranno? Eh, ok, qua sotto, qua sotto. Sono dentro. Ma... Guarda me. Porca merda, martina. L'hai fatto cagare sotto, Mirko. Vieni qua, Mirko, metto il campfire. Ho metto sotto te. Ho tre medikit. Cioè, 400 medikit, eh. Vabbè, andate, c'è il camper, non importa. Che ho visti? Stanno davanti a noi, a sud-este. A sud-este, martina! Arrivo. Sono incazzati, te lo dico, no? Eh, stanno incazzatissimi. Questi qua tre yarderanno, te lo dico. Stanno proprio buildando come... Mi hanno fatto il fortino, stile boh. Sì. Vado qua sotto e faccio il metallo. Non mi rompere. Piccate per stesusine, martinci, vabbè, scuradine. Va. Volete tutti. Morto, no? Quello, non trappoliamolo. Va bene, va bene, va bene. Non vedo il ritardello. Wuuu. Eh, ho messo una qualche trappola. No, io non ne vedo. Quante ne avevi, Dill? No, neanche io. Pippinati. Eh, questa era una partita abbastanza tranquilla. Sì. Guarda, era bella. Io ne ho fatte 19, non so tu. Game break video. Tu ne hai fatte 10? 19. Eh, 19 sono tante. Eh, no, infatti era un bel game. Considerando che siamo andati tranquilli. Abbiamo trovato tanti rift e quella è stata la cosa positiva. Eh. Siamo spostati proprio in fretta. Ciao.